Questo Xiaomi Redmi 3, 2, 16GB, 2GB di RAM, 6GB di RAM, 6GB di RAM, 6GB di RAM, 6GB di RAM, 2GB di RAM, grigio. Consferizioni dall'Europa, da GrosserShop.net. Come vedete l'offerta scade tra 3 giorni, 4 ore e 2 minuti. Il prezzo sembra un buon prezzo è 159.06. Come specifico abbiamo 5 pollici, risoluzione HD, 2GB di RAM, 16GB di RAM, Android 5.1, Lollip, 4G, WiFi, GPS, Bluetooth, fotocambo stereo da 13, anteriore da 5, batteria 4100. Direi che è un ottimo telefono per le caratteristiche che presenta. 30G, del GPP Adreno 405, un prezzo di fine a 128GB, anche questa non falando con il telefono 13MP senza un telefono che ha delle qualità da top di gamma direi. per un prezzo che è ottimo 159 euro con spedizione che sta in offerta ovviamente come vedete il prezzo originale è questo 6,79 prodotto da xiaom consegni 24 ore gratis direi un ottimo telefono da per chi non vuole spendere tanto ma vuole qualcosa veramente un ottimo telefono può prendere questo xiaomi redmi pre ecco qua e questo è il telefono recensione finita lo consiglio comunque ciao ehi dai